Con il provvedimento del Governo sull'emersione sono già uscite dall'invisibilità decine di migliaia di persone che vivono e lavorano nel nostro paese. Un modo per far vincere la legalità, per aiutare imprese e famiglie, per combattere il caporalato soprattutto nell'emergenza sanitaria, per la salute e la sicurezza di tutti. C'è tempo entro il 15 agosto. Grazie a tutti.